Il Consiglio ha approvato il dissesto finanziario al Comune di Favara. Inizialmente durante il Consiglio Comunale di ieri sera l'opposizione ha contestato la caratteristica d'urgenza della seduta. La maggioranza ha spiegato di volere bloccare il pagamento degli interessi. Sentiamo. Dopo Port Empedocle anche il Comune di Favara è ufficialmente in dissesto finanziario. La maggioranza dei consiglieri comunali ha detto sì ieri sera alla proposta della giunta targata Alba Attardo su proposta dell'assessore al bilancio Maida. Il Comune ha troppi debiti per essere ripianato con un piano di riequilibrio. 13 i sì tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, 9 i no i consiglieri di minoranza, un astenuto il presidente del Consiglio e un assente il consigliere giudice. Questo l'esito del voto avvenuto dopo oltre 4 ore dall'inizio della seduta. Approvato il punto si è data immediata esecutività con 13 sì, 8 no e 2 astenuti. Un consiglio comunale che ha visto poca partecipazione dei cittadini, presenti per lo più addetti ai lavori, politici ed ex amministratori. Consiglio ha iniziato con oltre 45 minuti di ritardo. A chiedere la parola al presidente del consiglio prima di iniziare con la trattazione del punto è stato il sindaco Anna Alba. Nel suo intervento ha voluto rivolgere un appello a tutti i consiglieri comunali. Con la città, ha detto Alba ad inizio discorso, siamo stati chiari fin dall'inizio, spiegando bene e prima la realtà che stavamo ereditando. Ci aspettavamo di trovare macerie e quelle abbiamo trovato. Alba ha anche detto, e poi lo ha ribadito anche a fine votazione, che il dissesto non è una volontà politica ma una necessità dell'ente, un atto dovuto per permettere allo stesso di attivare le procedure previste dell'articolo 244 del Tuel. Un discorso diretto e poco conciliatorio, quello fatto dal sindaco che nella pratica ha detto alla minoranza che è stata brava a fare solo opposizione e a sollevare sterili polemiche. Inoltre, ha aggiunto, non siete stati in grado di produrre quel tanto discusso piano di riequilibrio che vantate di avere nel cassetto. Il sindaco ha parlato di numeri, il riferimento è ai gettoni di presenza e loro massimali dei primi cinque mesi della legislatura manganella, confrontandoli con i primi cinque mesi della sua legislatura, ottenendo un risparmio di circa 99.000 euro. Insomma, a fine intervento, Alba ha affermato, oggi tracceremo una linea netta tra passato e presente, a voi la scelta di far parte di un progetto che ci consentirà di riconsegnare ai nostri cittadini una città migliore. Immediata la reazione dell'opposizione, diversi gli interventi susseguitisi a prendere parola più volte ai consiglieri Chiapparo, Scalia e Mossuto, intervenuti anche Giudice, Caramazza, Nobile, Calogero e Rossana Castronovo. Insomma, l'opposizione tutta era concorde sul fatto che non c'erano gli estremi d'urgenza di questo Consiglio Comunale. La maggioranza invece ha spiegato l'urgenza con il tentativo di bloccare gli interessi che l'ente paga e che con la dichiarazione di dissesto non farà più. Dopo due mesi di assoluto silenzio, hanno detto dall'opposizione, è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario e urgente per discutere la proposta di dissesto. Chiapparo ha fatto anche un escursus sulle date di convocazioni di conferenze di capigruppo fino ad arrivare alla seduta consigliare di ieri sera. Hanno insistito sul fatto che si poteva presentare un altro piano di riequilibrio, modificando anche quello già presentato, pur di non portare il Comune al fallimento. Dissesto che, secondo l'opposizione, adesso andrà a ricadere sui cittadini e sui creditori che avranno pagato meno di quello che gli spetta. Insomma, i consiglieri d'opposizione hanno battagliato in Consiglio, hanno cercato anche di trovare i vizi di forma nella proposta di delibera prontamente giustificati da dirigente alle finanze, assessore al bilancio e segretario comunale. Prima di passare alla votazione, la consigliera Failla del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento alla proposta di dissesto con la quale si dichiara la decadenza del piano di riequilibrio. Ribadita la necessità di procedere con la dichiarazione di dissesto, il punto dopo circa quattro ore e mezzo di seduta consigliare è stato votato positivamente. Votata anche l'immediata esecutività del punto, il Consiglio Comunale si è poi chiuso prima della mezzanotte in quanto non vi erano più punti all'ordine del giorno.